Finalmente ho messo le mani su un volume che, devo dire, era un po' di tempo che corteggiavo, anche se non è esattamente l'edizione alla quale guardavo io. Comunque, si parla, cosa rara su questo canale, di supereroi e in particolare di Silver Surfer. Vedete, questo volume appartiene ai classici del fumetto di Repubblica, è databile alla fine degli anni zero, l'ho trovato in un mercatino, ma contiene anche la storia scritta da Stan Lee e disegnata da Moebius del 1988, cioè Parabola. Un, direi, un capolavoro per quanto mi riguarda. Silver Surfer è un personaggio che a me ha sempre affascinato, credo rappresenti una rivoluzione all'interno della già rivoluzionaria Marvel, personaggio dagli echi post-68, d'altra parte è proprio nel 68 che il personaggio viene concepito come protagonista assoluto di una serie, ma la sua prima comparsa la dobbiamo retrodattare di un paio d'anni perché Silver Surfer nasce su un'intuizione di Jack Kirby sulle pagine dei Fantastici Quattro, ma poi Stan Lee si innamorerà in qualche modo dell'intuizione di Kirby, di questo personaggio dall'aspetto angelico e ne svilupperà le caratteristiche. Brevemente diciamo che, per inquadrare un po' il personaggio, Silver Surfer è un caso di eroe in qualche modo creato dal villain, dal suo villain principale, cioè Galactus, che, come sapranno gli appassionati Marvel, si nutre dell'energia degli altri pianeti e per salvare il suo pianeta, quest'uomo che si chiama Norrin Rad, e per salvare soprattutto la donna che ama Shalabal, si offrirà come araldo per Galactus per trovargli dei pianeti non abitati da forme di vita umane umanoidi e potergli permettere di nutrirsi sostanzialmente senza fare danni. Naturalmente per fare questo Galactus lo trasforma ponendola all'interno di questa armatura d'argento e permettendogli di solcare lo spazio su un asse che poi di fatto è un surf, come vediamo qui ritratto, e quindi insomma la loro, chiamiamola collaborazione, si fermerà quando Silver Surfer conoscerà il pianeta Terra e si batterà per salvarlo da questa fame e da questa ingordigia cosmica di Galactus, che per rappresaglia lo esiglia proprio sul pianeta Terra non permettendogli di ritrovare la via dello spazio e quindi anche la donna amata. Tutto questo in sintesi per così in qualche modo far intravedere alla complessità del personaggio, un personaggio oltremodo romantico che sicuramente permette a Stan Lee di raccontare in presa diretta tante cose del suo paese, penso soltanto al movimento insensolato ma anche così a tutta la stagione degli hippie che peraltro un anno dopo troverà una sua sanguinosa conclusione nei fatti di Bel Air come sappiamo. Però Silver Surfer è un personaggio che secondo me trascende anche l'aria del tempo, tra l'altro io la prima incontro che ho avuto con questo personaggio come spesso succede è avvenuto attraverso il cinema perché il cinema è sempre stato nella mia vita un volano per cogliere altre sollecitazioni e in particolare un film all'ultimo respiro di Jim McBride che adattava con sommo sprezzo del pericolo così ai tempi moderni l'epocale fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard e in questo film il protagonista Richard Gere era proprio un appassionato di Silver Surfer. Ora questo volume contiene le storie classiche diciamo così del personaggio scritte da Stan Lee disegnate da John Buscema ma contiene anche il racconto sul quale vorrei soffermarmi e che è veramente un capolavoro e cioè parabola. Parabola che sempre su sceneggiatura di Stan Lee però ci propone i disegni di Moebius e mai incontro fu in qualche modo più logico permettetemi di dirlo oltre che incontro molto felice perché un disegnatore lisergico come Moebius che ricordiamolo ha messo mano agli storyboard per Blade Runner e per il Dune non realizzato da Alejandro Jodorowsky ecco è oltretutto con Jodorowsky c'è una collaborazione annosa nel mondo del fumetto no? Moebius in qualche modo mi sembra perfetto per raccontare un personaggio come Silver Surfer personaggio modernissimo capace di essere trasversale come spesso succede naturalmente nel mondo Marvel a tanti altri personaggi con la caratteristica di essere un vero pacifista cioè Silver Surfer ha questo afflato pacifista fortissimo totalmente inedito direi nel mondo del fumetto perlomeno del fumetto d'azione e come invece è un po' marchio di fabbrica di Stan Lee pensiamo soltanto a Spider-Man in qualche modo i suoi sforzi per proteggere la razza umana non vengono ripagati dagli esseri umani che anzi lo identificano spesso appunto come un alieno invasore sono anche divertenti le sceneggietture di Stan Lee perché in anello hanno tutta una serie di equivoci che spesso fanno apparire agli occhi degli esseri umani che beneficiano dell'azione di Silver Surfer lo fanno apparire come un nemico e qualcosa di simile accade in parabola dove vediamo il ritorno di Galactus per riappropriarsi del pianeta terra con una diciamo così una uno scopo che è in qualche modo speculare a quello di Silver Surfer perché così come Silver Surfer vuole far capire agli esseri umani il valore della pace il valore della ragione. Stan Lee è un autore profondamente laico e mette proprio l'accento sulla ragione. Galactus invece vuole far emergere la parte ferina dell'umanità ed è interessante come in questo parabola nella visione delle cose di Stan Lee gli esseri umani si schierino di fatto con Galactus guardando a lui come un dio e attraverso due personaggi straordinari quelli di un predicatore Colton e sua sorella Elina ci viene raccontato come subito il potere spirituale incarnato da questo Colton in qualche modo approfittano della presenza di Galactus per manipolare il consenso attraverso proprio la religione. La caratteristica di un personaggio così spirituale come Silver Surfer è quella soprattutto di mettere l'uomo in qualche modo di metterlo in guardia rispetto alla religione non è un atteggiamento come dire soltanto positivo perché come dicevo prima c'è una in qualche modo Silver Surfer è un personaggio spirituale che invita la spiritualità però è come se fosse allo stesso tempo alieno alle religioni organizzate e tutto il suo operare punta proprio sulla necessità della ragione che è vista e additata da dialoghi che forse sono anche un po' didascalici se vogliamo come il valore fondante e fondativo dell'uomo. È un fumetto di una densità tematica estremamente sorprendente ma forse solo per me che mastico pochi supereroi ma che allo stesso tempo ho trovato entusiasmante veramente entusiasmante perché forse è la cosa più politica che Stanley ha mai scritto questo vale per le storie classiche disegnate da Buscema ma ancora di più per lo spettacoloso per la spettacolosa collaborazione con il grandissimo Moebius che a volte arriva anche a sintesi grafiche e torniamo a quell'accusa di un po' didascalismo che ho mosso che non potrebbero essere più evidenti guardiamo questo silver surfer che sotto il fuoco amico di quelli che lui tenta di difendere cioè noi esseri umani assume questa posa cristologica e dice esplicitamente e in verità non sanno quello che fanno. Difficile essere più espliciti di così ma le trovate narrative di Stanley e di Moebius non si limitano a quello infatti è molto bello leggere parabola dopo le storie che lo precedono perché Stanley ci mette in scena un silver surfer che sembra essersi esiliato dal mondo un po' come un eroe hardboiled da altri tempi e questa impressione è rafforzata dal fatto che il racconto è raccontato in prima persona da silver surfer ecco che lo troviamo nei panni di un homeless ovviamente trattato male dalla polizia con sospetto e aggredito sostanzialmente proprio un homeless che nasconde la sua bardatura d'argento nasconde il suo surf e sotto appunto coltri di vestiti sporchi perché ormai diciamo la sua disillusione rispetto alla razza umana è tale che appunto vuole uscire dal mondo soltanto poi l'aggressione di Galactus gli farà cambiare idea è difficile diciamo cogliere secondo me la specificità di questo personaggio proprio per la ricchezza di temi che inanella uno dopo l'altro e per questo che dico che è una creazione rivoluzionaria veramente di Stanley un po' perché l'eroe action in qualche modo non può permettersi di essere pacifista fino in fondo ma invece silver surfer lo è ed è un eroe perdente è un eroe per cui veramente alla fine delle sue storie non c'è mai il trionfo di ciò che potrebbe essere un'idea di bene e di giustizia c'è semmai il trionfo del dubbio, dell'equivoco e l'amarezza che permea anche ogni transitoria vittoria del personaggio e perché c'è questa amarezza? perché sostanzialmente silver surfer combatte per un mondo che lo odia che lo rifiuta il pianeta terra cui lui accorda il suo amore, la sua benevolenza anche la sua ostinazione nel riconoscere una bontà in un popolo che è quello poi il popolo degli uomini, il popolo umano che però è facilmente preda di avidità di sentimenti di forzata proprio di esclusione verso l'altro un capolavoro veramente silver surfer parabola di Stan Lee e Moebius è decisamente un capolavoro ma tutta la storia editoriale del personaggio di grandissima rilevanza e io farò di tutto per coprirla in qualche modo tanto vi dovevo vi auguro una buona serata